Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Toy Animation, Funimation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Che cosa ti avevo detto, Karot? In questa forma sono dieci volte più forte, mentre tu riesci a malapena difenderti. Urca! Questo è ancora peggio di quando andavo al liceo e i compagni mi chiamavano Gokulo ed ero lo schiavetto di Junior e non riuscivo a dichiararmi a Kiki e... Ah, e devo aver picchiato la testa molto forte prima. E ora, Karot, il colpo finale! Oh, cacchio! Cosa farebbe Yamco? No, no! Cosa farebbe Tensing? Ecco, so cosa fare! Sei finito, Karot! Colpo del sole! I miei occhi! Cazzo, è come andare in bagno e vedere Freezer sotto la doccia! Aspetta, Freezer è sempre nudo! Bene, dovrai aver guadagnato tempo. E ora si fa sul serio. Pianeta, donami la tua energia! Ho bisogno del tuo aiuto! Oceani, foreste, abitanti del pianeta! Tutti gli animali che vivono sulla Terra! Eccola! Credo che possa bastare! Anche se un altro pochino non sarebbe male! Papà? Papà? Perfetto! L'energia sferica è pronta! Funzionerà! Finalmente ci vedo di nuovo! Ora ti farò pezzi sul serio, Karot! Ora, prendi questo! L'energia di tutto il mondo! Oh no! Ma perché urlo sempre? Ehi, senti questa! Sai qual è il contrario di Papà Gamba Lunga? No! Papà Gamba Rotta! Ma non fa ridere come battuta! Pazienza! E ora farai la stessa fine che hanno fatto gli Arliani! Ar... chi? Appunto! Repa, maledetto! Ancora lo stesso occhio! Bene così! E ora diamoci la gamba! Oh cavoli, se sarebbe bello! Ora ne ho abbastanza! Ti farò pezzi, osso per osso, gustandomi la tua agonia! Krillie, sei sicuro che mio padre possa cavarsela da solo? Non preoccuparti, Gohan! Hai visto quanto hai diventato forte, no? Sono sicuro che se la sta cavando! Gesù Cristo, superstar nei cieli! Preparati, caro testo, per ridurti le ossa in briciole! Ma che... Non ci credo esilarante! Levati quelle sporche mani di dosso, durido primate! Che insulto originale! E dimmi, se non lo lascio, che mi succederà? Te ne pentirai amaramente! La legge di azione di massa afferma che la massa di un corpo aumenta la forza d'impatto quando il suddetto corpo precipita la sua odo! Data la tua stanza eserciterai un notevole impatto che porterà la tua sconfitta! Che? Più grossi sono, più forti cadono! Che? Piantala! Senti piccolo, sei davvero coraggioso ma tuo padre ha un piede nella fossa e nessuno di voi ha le capacità o le forze per... E' più magico! Farmi fuori! Oh 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 oh! Che cacchio! Siete spacciati! I più forti combattenti del vostro pianeta sono a terra! Impotenti! Al cospetto di un Saiyan d'Elite! Nessuno di voi può fermarmi! Nessuno di... Aiuto, 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 aiuto! Maio! No! No! Maledizione! Maledizione! E' tornata normale! Come on, possiamo farcela! Possiamo botterlo! Abbiamo un eccetto! Oddio! Sai cosa? Pensavo di essere molto più arrabbiato dato che sono stato umiliato e ho perso anche la coda. O forse sono così incazzato da essere tornato di nuovo al punto di partenza. Quel che è certo è che è ora di farla finita! Gohan! Sei tu! Ehi, papà! Mi... Mi dispiace tanto. Tranquillo, Gohan. Hai fatto del tuo meglio. Almeno sei tornato a casa dalla mamma e le hai detto di... In realtà, Anon, sono ancora passato per casa. Sono tornato per salvarti. Papà? Errare è umano, Gohan. Ma ora... Dobbiamo essere forti. Ok? Papà! Figlio mio! Che hai da dire, Carrot? Mi avete fatto a pezzi! Mi avete tagliato la coda! Mi avete voluto sapessi in faccia! Ma non avete ancora annientato il mio orgoglio! Ah, il mio orgoglio! Ti insegno io a fare del male al mio papà! E tu cosa pensi di fare, eh? Non ti rimane più uno straccio di energia! Il mio occhio! Ma che cazzo hanno contro sto cazzo di occhio? Krillin, vieni qui. Devo consegnarti una cosa! Il tuo testamento? No! Si tratta di tutta l'energia del pianeta! È la nostra ultima speranza! E tu? La consegneresti a me? Sai, sono un po' a corto di opzioni! Eh? Porca cazzozza! Ecco come ci si sente a essere importanti! Su, sbrigati, Carrot! È ora di salutare tuo figlio! Caspita! Che potenza! Proviene da ogni essere evidente sul pianeta! La sento crescere dentro di me! Tutti gli uomini! Le donne e i bambini! Questa è l'essenza stessa del pianeta Terra! Beccati questo pezzo di merda! Ma che diavolo è? Goditi la permanenza all'inferno! Che cacchio! Ma non è possibile! Gohan, ascolta! Debi farla rimbalzare addosso a Vegeta! Ma com'è possibile? Non credo che l'energia funzioni così! Non avere paura, Gohan! Puoi farcela! Sei un bravo bambino! Oh, ok! Se hai fiducia in me, allora... Se non ci riesci morirai! Cosa? Siete agli sgoccioli ormai! Era la vostra ultima chance! Siete spacciati! Non c'è più nulla che possiate fare per... Cos'è questa puzza di cerbiatto? Siete annate la mia arroganza! Yahoo! Goku, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! L'abbiamo sconfitta con l'energia sferica! Ottimo lavoro, ragazzi! Hai visto, Goku? È fatta! Possiamo tornare a casa! È stata dura! Ma adesso... Non rivedremo mai più quello stramaledetto Saiyan! Mai più vivo! Non lo rivedremo mai più vivo, volevo dire! Meno male che questa brutta storia è finita! Lo mangi quel Saiyan? Cosa? È mio... Vabbè! Comunque pare che l'energia sferica abbia funzionato! E perciò possiamo tornare a casa e continuare a... Aaaaaaah! 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 Ehi, ma chi avete, ragazzi? Abbiamo vinto, no? Aaaaaaah! 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 Grazie a tutti